Ciao amici di TGM, siamo fuori dall'LA Convention Center, ultimo recap delle tre, questo è l'oggetto del potere di oggi, CIV6, l'agendina che tutto il mondo ci invidia e che ci passeremo appunto dicendo il meglio e il peggio di questa giornata. Inizia te Claudio? A me l'oggetto del potere, inizio io, allora il meglio secondo me è stato Batman di Telltale perché l'ambientazione del boot era molto bella, qua hanno ricostruito la Batcaverna, quindi insomma molto l'atmosfera, anche estremamente soporifera a luna e al pomeriggio ma abbiamo resistito lo stesso. Peggio della fiera, e poi il gioco era anche promettentemente bello, peggio della giornata di oggi direi invece la sessione Microids di un'oretta in cui hanno presentato Yesterday Origins, Siberia 3 e Motorazer 4, perché? E un po' perché erano le due pomeriggio subito dopo e quindi la biocca era prepotente, resistere è stato difficile ma due lattine di Red Bull l'hanno aiutato e poi perché era veramente un po' misera l'ambientazione nel senso che c'era un poveraccio francese portato lì che ha fatto tutti i tre giochi di fila, era un PR, che ha fatto tutti i tre giochi di fila cambiando eseguibile sul PC e non aveva neanche il gameplay del gioco, aveva dei filmati presi con Fraps che faceva vedere. Migliore 2, pari merito, Dishonored 2, che Claudio si è follemente dimenticato dai migliori, e ovviamente Abzu del mio cuore, che è inutile spendere parole su questi due giochi, iperannunciati, iperattesi, il mondo potrebbe finire il 2 agosto perché arriva Abzu e così. Il peggior gioco in realtà è che non ho visto Final Fantasy XV perché sono arrivato all'appuntamento puntuale, presentazione intervista esclusiva, scusa ma sei segnato per Final Fantasy XIV e direi che il rage quit è via. Insomma è andata così, oggetto del potere, io non riesco a scegliere tra Mafia 3 e Nioh, quindi dico tutte e due, quindi gioco d'azione open world e un Souls-like. E invece per quanto riguarda il peggio, non perché c'è niente di brutto da dire su qualcosa, la sessione diciamo così in generale Oculus VR, perché? Perché non abbiamo visto quello che mi aspettavo, magari c'è un titolo particolarmente atteso che è Edge of No Here, che insomma ne hanno parlato diverse volte in questi ultimi mesi e in questo ultimo anno, Noi invece niente, ci hanno fatto vedere un paio di robe piuttosto trascurabili, Claudio che era con me può confermare. È tutto direi per il Daily Recap di oggi, vi ringraziamo per l'attenzione e insomma, boh, ai Daily Recap del prossimo anno direi. Ci vediamo ai Daily Recap di Colonia e ringraziamo Mario Bacigalupi perché col colpo di coda ci ha fatto una lezione d'inglese. Ciao!